La spinta che da sempre mi porta a cercare di fare meglio è quella di mantenere l'azienda di famiglia che è stata fondata nel 1931 e che, nelle mie speranze, è destinata a continuare per permettere ai miei figli di fare un'attività molto importante. Oltre a questo, ovviamente, la responsabilità delle persone che lavorano per noi, un centinaio di persone, è tale da cercare di far andare le cose al meglio. Certamente il nostro mercato, che è molto legato all'edilizia, che come tutti sappiamo in questi anni subito delle crisi pesanti, per essere mantenuto a livelli accettabili richiede molti sforzi di organizzazione, di miglioramento dei processi, di attività commerciale e anche pesanti sacrifici economici che in questi anni hanno visto ridurre i margini per mantenere il fatturato a livelli accettabili. La nostra azienda si sta dedicando in questi ultimi tempi a passare alla progettazione e alla vendita dei sistemi che si affiancano ai componenti che sono il nostro cavallo di battaglia perché riteniamo che in un vicino futuro i sistemi possano essere una modernizzazione della nostra presenza sul mercato e soprattutto rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente. Grazie